Il modo migliore per far soldi in fretta da queste parti è andare a caccia. C'è un sacco di gente disposta a pagare bene per carne o belli. Ok, bentornati a un nuovo video del grande potente Ozze, con me c'è sempre il grande... Gabriele 19, Gabriele 19, dove? Il palo! La mucca è un senso. Ok, andiamoci. Siamo finiti, non siamo morti. Facciamo una mela enorme. Non abbiamo obiettivi, ciò solo ci abbiamo unito davanti, non so dov'è. Ok, cosa dobbiamo fare qua? Allora, siamo qua. Siamo? Ci siamo, scusa. Scusa, perché non vedo il reddito? Ah, qua. Praticamente quella è la struttura dove ci siamo... Noi siamo in strada, qua c'è la mela. Quella è la struttura dove siamo scappati. Sì. Che è gigante, praticamente. Dove dobbiamo andare? Siamo liberi di andare dappertutto? Cioè, voglio liberare un accampamento qua vicino. No, lo posso fare. Se ci sono, sì. Eh, tipo questo. Ah, lì, tipo si può prendere caro. Sono l'era, la piantaggione di zucche. Bumera impazzito, non so cosa fare. Eh? Sì, 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 sì. Sono, eh? Pazzino che non posso fare. Ok, andiamo nella cosa di zucche. Sì. È una musca di l'arca. È una musca di l'arca. È una musca di l'arca. Spazzia di l'arca. Che c'è voi? Cosmo? Cosa sta sperando? Cos'è? Kurt Orbus, liberate Ah ok, liberiamo le Le cose che non è Li liberi, cioè vuoi avermi Sto in grado Che parola è? È stato diversamente appassato Dove sei vivuto? Adesso, sono schifo Dove? Aspetta, non fa la cosa Ciao ragazzi Sono da prendermi Oh cavolo, no! F***o Questo era un cedile Andiamo a raccogliere le mele E poi, ovviamente, abbiamo bisogno Sì, bisogno di musica in streaming Di sette in streaming In streaming È morto Non è nemmeno di musica in streaming Sì, beh, è morto Oggi c'è lei qua Oh Ah no, ho chiamato i vintotti. Sono tatti! Scappa! Scappa, sono troppi! Ma fatti ce ne sono, quanti questi schifosi! E' un vero, non si ricordo di me l'espardo al mio ovo! E' un vero! E' un vero! E' un vero! E' un vero! Ho chiamato il giro! Alla prossima 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 Alla prossima